È stato l'osservato speciale come nuova location per lo svolgimento dei tamponi molecolari, ma detta degli atleti, sempre il dimenticato per eccellenza su fronte sportivo, non trova pace il palasport di Via 25 Aprile a Sulmona, ad elencare disagi e criticità ormai note alle cronache Sulmona Volley in vista della ripresa della stagione in programma il prossimo 13 settembre. Il tetto perde acqua, alcune porte di accesso non chiudono, diversi banni non funzionano al meglio, mentre Parquet avrebbe bisogno di una risistemata specialmente a fondo campo. Per non parlare delle tessere rialzate che risulterebbero pericolose per gli atleti e dei fari, almeno alcuni che risultano spenti, fanno notare gli atleti, sperando in una risoluzione a stretto giro delle problematiche già segnalate. Conosce invece la stagione del rilancio, la pista di atletica dell'incoronata, che è pronta ad ospitare i campionati italiani. Gli interventi di riqualificazione da 20.000 euro e seguili di recente hanno incassato ieri parere positivo della Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo, a cui seguire il rilascio della licenza di agibilità. Un risultato importante è quello conseguito, come spiegato nei giorni scorsi dall'amatore Serafini.